alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra Italia, valevole per la qualificazione della Copa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.